Vacanze in barca? Navica in maniera sostenibile e fai rispettare il codice della navigazione. Mi raccomando, mai oltre 10 nodi a meno di 1000 metri dalla costa e se vedi la bandierina bianco-rossa dei sub, mantieni la distanza di sicurezza di almeno 100 metri. Non gettare nessun tipo di rifiuto dalla barca e anzi raccoglili con retino. Se sei con gli amici, fai a gara chi ne raccogli di più. Gioca e divertiti a mare, ma rispettandolo.